E voglio ricordare adesso, per concludere questo testo, l'ultima frase di Natalino che regala a voi e che rimanga un mantra per tutti quanti ogni volta che pensiamo di poter capire la vita degli altri. Ognuno è un uragano all'interno e noi non sappiamo niente. Quindi prima di giudicare, premete il tasto RESET. Grazie. 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 Grazie.